Giovanni Tuminello l'azienda Colliblei Bubalus presente alla 43esima edizione della FAM qui a Ragusa con i vostri prodotti d'eccellenza questo come ormai consiglio di dire è un appuntamento fisso per noi ci piace essere presenti perché è un momento di grande promozione dell'azienda dei prodotti che proponiamo, della qualità che cerchiamo di proporre ai nostri clienti ogni anno cerchiamo di portare delle novità anche quest'anno oltre alla linea dei formaggi e dei salumi di bufala che si conoscono già abbiamo portato in maniera più ampia una gamma di prodotti di gastronomia rivisitatela dove è possibile con i prodotti di bufala quindi trovate da noi anche le scarce ragusane ma fatte con il metodo classico, tradizionale di casa nostra ma inserendo dei prodotti di bufala come la ricotta o la salsiccia di bufala quindi vi invitiamo tutti a venire a provare, assaggiarle e chissà poi magari a comprarle durante tutto il resto dell'anno prodotti che raccontano la nostra terra prodotti che raccontano quello che è poi il bello del ragusano sicuramente, cerchiamo di raccontarlo anche mettendoci un po' del nostro quindi rivedendo alcune ricette, alcuni prodotti tipici e cercando di dare quel pizzico di novità che possa incuriosire il pubblico nonché dare gusto e sapore al prodotto un prodotto che ha un sapore quindi di innovazione ma un legame con la tradizione un fortissimo legame con la tradizione vengono rispettati tutti i metodi di produzione antichi quanto questi prodotti e ripeto con la piccola innovazione di inserire il prodotto di bufala che ci contraddistingue sul mercato e ripeto con la piccola innovazione di inserire il prodotto di bufala